salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del gobo toscano escono notizie fantasmagorie oggi questa però è da ridere questa ve la riporto perché sono delle notizie veramente che non hanno uguali o meglio se fosse vera mi strapperei un capello per volta tutte le sopracciglia anche se non si vedono tutte le ciglia e tutti i peli della barba uno ad uno perché se fosse vera avrebbe del clamoroso ma non il clamoroso normale un clamoroso di quelli proprio da spazzare via ogni più rose aspettativa per la juventus dei prossimi anni qui si casca subito male prima di entrare in merito però al discorso iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace condividete commentate attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi contenuti attenzione attenzione vi leggo l'articolo vi leggo l'articolo ildiz a manchester giuntoli lo scambia con un top mondiale i dettagli giuntoli pensa lo scambio un top player ildiz può lasciare la juve che accoglierebbe il gioiello inglese l'europeo in germania prosegue e ci avviciniamo all'ultima giornata dei gironi prima di entrare nella fase calda quella eliminazione diretta intanto però parallelamente prosegue anche il calciomercato e tanti giocatori in campo euro 2024 sono sotto i riflettori e diventeranno ancor più chiacchierati sul mercato al termine della competizione uno di questi è il gioiello della juventus canan ildiz legato alla juve fino al giugno 2027 ildiz è impegnato euro 2024 alla turchia dove montella lo ha schierato titolare anche nell'ultima partita persa malamente col portogallo insieme a celanoglu e guler è certamente uno dei leader tecnici della squadra di vincenzo montella fermi fermi juventus possibile scambio col manchester united ildiz per sancio cioè il classe 2005 non ha ancora segnato in questo europeo ma le sue modalità non sono in discussione la juventus vuole tenerselo stretto soprattutto da chi è arrivato tiago motono che di giovani talenti ha dimostrato di intendersene chiedere a zirk zi e riccardo calafiori con il nuovo allenatore ildiz potrebbe definitivamente sbocciare dopo essere stato lanciato in prima squadra da massimiliano allegri la scorsa stagione ildiz ha concluso il campionato un due gol e un assist conditi da altre due reti in coppa italia trofeo vinto proprio dalla juve il mercato però impone alla vecchia signora di ascoltare le eventuali offerte che si presenteranno impone il manchester sulle tracce del gioiello turco di contro la juve da diverso tempo segue attentamente già don sancio tutto sembra apparecchiato addirittura per un possibile scambio tra la juve e il manchester due giocatori piuttosto simili per caratteristiche attitudine ma con un divario di cinque anni nella carta identità ildiz è un 2005 e deve ancora compiere 20 anni sancio invece un classe 2024 anni non un grosso problema vista la giovane età dell'inglese ex borussia dortmund ma certamente un fattore da considerare lo united potrebbe chiedere ildiz e mettere sul piatto il cartellino di sancio e scadenza al giugno 2026 al momento è solo un'ipotesi ma non così distante dalla realtà servirà un guizzo di cristiano giuntoli per mandare in porta trattativa ma intanto lo scenario inizia a prendere forma staremo a vedere se le prossime settimane potranno contribuire a sostanziare l'affare ora con tutti i bene questo è un articolo su juve live articolo di cristiano simeti non so chi sia di ieri e di ieri questo però mi era sfuggito ecco io vi dico questa è la trattativa regina di narnia perché che giuntoli debba fare il guizzo finale per fanno a un porto stavosamente è una cosa favorevole alla juve solo un ottimo direttore tecnico può riuscire con il disco e contropartita a prendere un già don sancio cioè prendi un assoluto di livello mondiale ragazzi il dispe sancio nemmeno madonna con tre casse di cipolle da da quell'altra parte cioè mamma ma siamo siamo fuori di testa e io dio a questi hanno scritto questo articolo allora intanto dove avete preso sta notizia perché nessuna parte nessun altro giornale lo riporta e nessuna persona conosco io me l'ha mai detta mai accennato mi hanno sempre detto anzi tutti sono sul mercato alla juve anche bremer nonostante è un pallino di tiago motta la juve vuole ripartire con bremer ma se arriva l'offerta giusta può partire anche lui tutti tranne hildiz e ora mi si viene a scrivere la juventus deve obbligatoriamente guardare alle offerte arriveranno ora un conto ragazzi sembra a 100 milioni per un giocatore di bell'età allora fermi a juventus non dirà di no ma 40 30 50 milioni ma ragazzi ma non esiste non esiste è il futuro in mano e lo butti via ora ripeto per me è la narniata più grande del mondo però ripeto se così dovesse essere che ci fosse non sarà mai ma se dovesse essere che ci fosse una un suicidio sportivo in questo modo da parte della juventus e soprattutto di giuntoli io dico allora ho tipo dei tenere tutti i centri lampisti e t'ha portato a quell'altra squadra perché voi di che la juventus non ci ha capito veramente nulla ma ripeto secondo me e ne sono strassicuro non succederà mai una roba di genere perché stiamo vedendo un mercato completamente diverso dagli anni scorsi ok indiscrezioni realtà obiettivi è tutto diverso è tutto diverso e quindi non mi aspetto uno scivolone del genere poi ripeto mai dire mai scusate sta gola sempre rompere i coglioni dato sempre di guai raffreddore c'ho tutto il naso tappato bloccato dio di dio comunque ragazzi non bisogna non bisogna credere credo a certe notizie perché uno non so chi sia sto tizio che l'ha scritto due è una pagina web insomma tre non nessun altro testato giornalista ne ha parlato quattro nessuna persona che conosco io tra agenti fifa e procuratori e intenditori di alcio mercato mi hanno mai detto nulla di questa trattativa quindi io casco dal pero vi dirò la verità ieri l'ho sottovalutata perché mi era scappata sta notizia però poi capite bene no che cosa succede quando la juventus comincia a far paura vengono buttate notizie pam 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 a campione per vedere cosa suscitano i tifosi juventini ovviamente i più polli e non i juventini realmente ci cascano ci cascano e riportano la notizia io infatti vi riporto la notizia ma non perché sono pollo perché vi voglio prendere per i fondelli cioè non è che voglio prendere per i fondelli voglio prendere per i fondelli chi porta certi contenuti perché ildis al manchester united non si può sentire non si può sentire ma l'europa league ma fa l'europa league c'ha tutto alla juve c'ha tutto c'è un rinnovo in programma fino al 2029 ma di cosa parlate se non sapete neanche dove state state a narnia veramente in quel magico e fantastico mondo di narnia è una roba assurda è una roba assurda cioè si va a mettere tutte le volte la juventus comincia a far paura a infilare una notizia e non ha né capo né coda solo per destabilizzare l'ambiente e far venire fuori quella gran parte dei tifosi juventini perché io ve lo dico da qui ve lo dico odiatemi ma me ne frega nulla il tifo della juventus è il peggiore dell'italia il peggiore ma io guarda no se trovo per la strada uno sonato c'ha sempre la maglia della juventus oh questo io so della juve potrei essere più scemo di tutti ma è un dato di fatto è un dato di fatto il tifo della juventus a me mi sta proprio sulle scatole cioè la maggior parte sono tutti o invasati esaltati così o se no quell'atti eredono ah il primo piccione passa senza ali dice qui il piccione vola senza ali ah si e li vedi la maglina juve ma ne è male svegliamo ci ritiriamo fuori anche figliolo che diventa per la juve per bene c'è una quantità di di non mi fai di nulla non mi fai di nulla perché se no veramente se qualcuno c'ha una problematica esistenziale è per la juve stranamente oh dio di dio ah madonna e ve li lascio tutti perché ve li meritate gli starnuti dopo avermi fatto leggere queste notizie vi meritate tutti gli starnuti di mondo comunque juventini per bene e ancora con problemi esistenziali guardate il video iscrivetevi al canale se non l'avete fatto lasciate un bel mi piace commentatelo e ditemi la vostra e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti ovviamente condividetelo anche il video fino alla fine gobbo toscano fino alla fine forza juve secondo me questa non è una bufala è proprio una stracciatella grossa così di bufala fino alla fine ciao ragazzi